Uomini, le prime sfide di semifinali sono andate alle squadre ospiti. Perugia e Civitanova proveranno a pareggiare la serie in gara 2 contro rispettivamente Modena e Civitanova, campione d'Italia in carica. Maurizio Colantoni. Con il 100% nei palazzetti a Pasqua e Pasquetta, il volley sarà di nuovo protagonista con i due match di gara 2 delle semifinali scudetto. Si inizierà con un clino infuocato domenica al Palapanini. Dopo le quattro giornate allo schiacciatore cubano Leal, per il calcione rifilato a fine gara a Traviza, la speranza è che torni il buonsenso con i riflettori puntati solamente sui grandi campioni in campo. Modena è avanti nella serie, peserà l'assenza di Leal, al suo posto giocherà la l'olandese Van Garderen. La squadra di Gianni ha una panchina corta, a differenza di Perugia. Nicola Gerbic vuole ritrovare la squadra che ha dominato la stagione regolare con il capitano Leon protagonista. Dopo la delusione della Champions, deve provare a rimettere in pari la serie. Anche Trento ha vinto la prima semifinale in trasferta in casa dei campioni d'Italia di Civitanova. Migliore in campo il solito Mattei Kazischi, 37 anni, fisico da ragazzino, amato dal gruppo. E' Trento la squadra da battere in questo momento. Civitanova dovrà giocare la migliore palla a volo. Arrisca ancora il capitano Osmani Monttorena. Blengini dovrà affidarsi a tutta la forza del suo bomber. Tornato a casa, Ivan Zeiser. Grazie a tutti.